Ciao a tutti, oggi sono qui con un nuovo video tutorial vi farò vedere come utilizzare magari degli avanzi di panno lenci e gomma crepla usando inoltre la sagoma di una farfalla o poi la sagoma che vorrete voi la forbici e qualche gingellino scintillante ecco, creiamo una cosa molto carina adesso anche per l'estate da regalare, da fare per se stessi con diversi usi molto molto carini ecco, procediamo quindi mi raccomando quando avanzate dei pezzetti piccoli di panno lenci o di feltro non li buttate mai via che vanno sempre bene allora, innanzitutto io ho già preparato e ritagliato del feltro 3 mm, solito spessore e due ritagli a forma di farfalla ecco, piccolo aiutino allora, io per disegnare la sagoma uso un tratto pen nero poi logicamente il feltro rimarrà un po' macchiato di nero comunque poi andate poi a rifilare piano piano con le forbicine in modo che viene via tutto e avete già anche risolto il problema ecco qua allora ripeto, due sagome identiche a forma di farfalla da sovrapporre dopo aver tolto il bordino nero poi un po' di cordino di nappina scelto il colore turchese un moschettone di questo tipo qui con l'anellino che gira qualche semisfera strass come decorazione e due perline argentate ecco, cose molto irrisorie, piccoline, facili da reperire che però fanno un bel effetto allora, iniziamo io il filetto qui di nappina me lo sono già preparato e misurato è circa un 40 cm poi va bene, la misura la potete scegliere voi liberamente ecco usiamo sempre la nostra colla a caldo allora, primo passaggio infiliamo la nostra nappina nell'anellino del moschettone posizionandolo a metà ecco qui ottimo adesso prendiamo una sagoma di farfalla andremo ad applicare la nostra nappina più o meno ma lasciando circa 3-4 cm in altezza poi ripeto, una volta che vedrete che cos'è poi sceglierete voi anche le misure blocchiamo il tutto con un goccino di colla in modo che stia anche fermo nella posizione centrale ecco qui ora andiamo ad applicare la colla su tutta la base della farfalla non importa se non siate subito perfetti tanto poi una volta che avrà fatto presa la cola a caldo andremo a controllare con l'altro pezzo di farfalla se ha aderito bene o no prendiamo l'altro ritaglio e lo posizioniamo sopra il più preciso possibile ecco qua facciamo fare ben aderenza ecco qui bene quindi poi andiamo a controllare come in questo caso qui se ci sono dei punti logicamente dove io non ho messo tanta cola per non farla sbordare fuori andiamo a mettercene ancora un pochettina in modo che sia completamente fissata l'una all'altra mi raccomando mettetene sempre poca perché poi logicamente sborderà fuori e macchierà il feltro soprattutto se state usando una cola a caldo di quella classica ad alta temperatura perché la mia essendo già a bassa temperatura è un po' più densa ecco bene perfetto primo passaggio fatto ora andiamo ad applicare la nostra decorazione allora io ho optato per queste semisfere strasse le andrò a posizionare tre in questo modo qui per creare il corpo della nostra farfalla poi sbizzarritevi voi con le vostre decorazioni utilizzando magari cose che avete già a casa o comunque con tutto quello che vi viene in mente ecco qui decorato anche la nostra farfalla adesso per finire infiliamo nella nostra una pena le due perline color acciaio non mi dite ho beccato proprio quella incredibile ho beccato proprio una nel video tutorial che non mi passa proviamo con l'altra che magari abbiamo più fortuna e invece direi proprio di no niente da fare errore mio non aver provato beh vabbè dopo ne prenderò un'altra allora intanto che io recupero visto che siamo in diretta l'altra perlina eccoci qua siamo già anche quasi alla fine poi vi farò vedere anche altri modellini che avevo creato ecco ce l'abbiamo fatta praticamente non è andata bene una ma non importa allora infiliamo anche la nostra altra perlina proprio beccata giusta quella che non andava bene allora io direi di metterne una in alto e una più in basso fate un nodino in modo da bloccarla e il gioco è fatto ecco qua adesso vi mostrerò meglio ecco qua andiamo a rifilare quello che non serve bene e abbiamo finito la nostra farfalla eccola qua con il moschettone allora io le ho pensate da applicare alle borse adesso che viene anche l'estate perlomeno speriamo per decorare magari avete qualche borsa non più giovanissima che magari volete abbellire arricchire un attimino molto carino insomma perché comunque con gli strass e le perline in argento è molto carina da vedere ecco ripeto che poi vi potete sbizzarrire potete crearle anche a modi portachiavi ecco qui un altro esempio fatto con il feltro scuro e il pompon finale potete sdoppiarle con la gomma crepla ad esempio in questo caso qui ho usato poi una bambolina magari carina da regalare anche alle ragazzine se le attaccano sulle loro borse o sull'astuccio o sullo zaino un altro tipo ad esempio fatto così sempre con le margheritine e il cordino al posto della della nappina e questa invece è una cosa un po' più particolare ritagliato un pezzetto di feltro ovale con del pizzo e il cameo e le due perline finali creato a modi portachiavi perché poi comunque che sia l'anero da portachiavi o il moschettone per essere appeso alla borsa insomma scegliete voi poi quello che vi piace di più bene spero che vi sia piaciuta la mia idea spero che vi vi è fatto fare anche una risata con i miei intoppi ma vabbè è così negozio fatalità ecco spero vi sia piaciuto e vi auguro buon lavoro alla prossima